Ma ho scontrato per te Prima non si mettono il Cancer Modus Con Orisa e Reynald Sombra c'è il river e poi dietro c'è il river sulla sinistra ci sta, ci sta ci sta, ci sta andiamo lì a sinistra river vabbè, questo è tutto il risultato da noi se trovate ma porca puttana bravo ma signori ho fatto pezza pulita bravissima ecco qua fatta fatta una strage una volta sono caduti tutti ehi ehi dove l'ho preso questo non c'è mega però che faccio? vado dentro dobbiamo fare un punticino non neanche chissà qui ehi allora aspetta che prendo la cultura mi sto ripero riperda dietro ma è uscito ognuno persa si ce l'arrivo a tiro eh no 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 mezzo mezzo squadra remota qua 94% da tu quanto sta? 76 sono nuovi domaker guardare ma secondo me ce la facciamo pure in te la stessa sombra riesce ad hackerare quella è perfetta riperda dietro riperda dietro c'è la lb c'è la lb siamo a sinistra ma non so dove sto c'è anche c'è anche mankri vido maker down go 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 vai 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 nooo nooo merci down reinar down go in siamo forse sotto riper down vai vido maker down tutti di centro ci sono tutti ha arrestato eeeh ha arrestato tutto l'ho acceso un'altra volta la piove vai 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 è perfetto ma signore ho fatto lo sacro la strage di anubis ha detto dd si riperda 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 ma questo non è mai stato il primo punto eh infatti si i fai riperda non4 ma no è pure miz vabbè non deve vabbè capirà hai fatto level up però Grazie a tutti